Ciao, benvenuto in SGT. SGT è il sistema di gestione del tracciamento del materiale a sterile, certificato e brevettato da Tecnomet. SGT esegue la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli state del processo di sterilizzazione, gli esiti delle apparecchiature e dei test di sterilizzazione. Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo. Il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli state del processo di sterilizzazione, come indicato dalle linee guida UNIT R11-408, grazie alla compilazione guidata. Scansiona il QR code con lo smartphone e inizia subito il tuo processo demo. Buon lavoro!